ve lo posso assicurare ho atteso fino all'ultimo istante per iniziare a registrare questo video perché volevo capire le condizioni di federico chiesa volevo capire un po di più vedere dato che questa mattina al j medical c'è stato un via vai continuo alexandro di maria e appunto chiesa che ha già terminato è uscito camminando e già questa è una buona notizia sembrava anche un passo abbastanza spedito quindi non dovrebbe essere qualcosa di particolarmente grave magari faremo la live reaction a quello che sarà il comunicato della juventus quando dovesse uscire in tempi brevi durante l'esposizione delle pagelle e quindi eccoci qua pagelle juventus friburgo a me ieri sera la juve non è dispiaciuta l'ho detto anche nel video post partita non tanti sono d'accordo con questa mia visione ma secondo me ieri non è stata una brutta juve l'unica cosa è non essere riusciti a chiudere la partita con più di un gol di scarto e questo è un problema ancestrale della juve ma secondo me ieri sera non derivante da una volontà della juventus quanto più da l'aver esaurito delle energie quindi questo ci dovrebbe far interrogare su una cosa com'è possibile che questa squadra nel momento in cui alza leggermente la pressione l'intensità poi non riesce a reggere certi ritmi forse probabilmente qualcosa andrebbe rivisto appunto rivista la preparazione atletica ma per quanto riguarda il campo me la juve ieri non è dispiaciuta credo che sia stata una partita stradominata l'1-0 sta strettissimo se sono sbagliate diverse occasioni da gol queste cose vanno sicuramente migliorate ma ripeto secondo me la juve ha strameritato la vittoria e la vittoria per 1-0 è anche abbastanza stretta come l'altro giorno vi dicevo la juve avrebbe meritato di non perdere con la roma ma la juve non mi è piaciuta oggi vi dico che la juventus avrebbe meritato invece di vincere con più gol e la juve non mi è dispiaciuta questa credo che sia stata una partita da replicare una falsa riga da replicare ripeto ovviamente segnando più gol perché con la mole che abbiamo creato fa ridere dato che l'anno scorso magari creavamo anche inizio di quest'anno un paio di palle gol e le concretizzavamo adesso invece ne creiamo tante e le sprechiamo quindi non siamo mai da via di mezzo vi invito a guardare anche il post partita appunto uscito ieri sera ed è quello che racconta un po di più la partita caldo vi dico che anche stamattina è uscito uno short una live reaction short proprio perché un 1-0 un po avaro di emozioni ho messo un po tutte le cose principali in 60 secondi lo trovate sempre qui sul canale youtube e qui sopra nelle schede allora ragazzi voto 6 a massimiliano allegri perché non mi è piaciuta tanto la gestione dei cambi proprio perché c'era il rischio relativo a all'infortunio cioè cerco di spiegarmi un po meglio perché detta così suona male ma la titolarità di alexandro non non è giustificata probabilmente nel senso che non si era allenato con il gruppo era in dubbio in dubbissimo sembrava nemmeno convocato era stato provato bonucci tra i titolari io capisco che in questo momento alexandro dia più garanze di bonucci io sono d'accordo con questa visione credo che sia assolutamente così però se alexandro non era in grado di giocare complice allegri complice alexandro magari che ha dato disponibilità anche se non era al meglio a volte stringere i denti non è proprio la scelta migliore a maggior ragione se poi rischi di portarti avanti un problema sulla gestione dei cambi il primo te lo sei bruciato in questo modo il secondo l'hai fatto all'intervallo quindi non occupa uno slot il terzo quello di chiesa è andato a mangiarti uno slot per un cambio singolo quindi potevi probabilmente mettere due giocatori in quella posizione lì per tenerti libero uno slot eventualmente per un cambio extra se capitava perché mettere chiesa con un singolo slot mettere bonucci con un singolo slot mettere che con un singolo slot va a obbligarti poi in caso di problematiche a non poter cambiare quindi secondo me allegri non ha ancora assorbito al cento per cento quella che è la gestione dei cambi dei cinque cambi con i tre slot è una cosa che non appartiene al suo modo di allenare perché lui è stato fermo nei due anni di covid quando è venuta fuori questa cosa è ripartito l'anno scorso quindi è soltanto un anno e mezzo che ha a che fare con questa cosa qui e secondo me ha indebolito molto il massimiliano allegri che conoscevamo che personalmente ho ottime ricordi della gestione dei cambi di allegri invece nell'allegri bis ho tante volte detto boh non lo so e questa cosa qualcuno potrà dire sì è facile dirlo dopo che era il leggeris era con me su twitch e lo saprà l'abbiamo detta nel momento in cui è stato fatto il cambio di che anzi il cambio di chiesa dicendo io non farei cambi adesso dato che ci siamo giocati questo slot con un singolo cambio a questo punto starei fermo perché un attimo che qualcuno possa avere un risentimento in quel modo obbligavi di maria fare anche 90 minuti che era più il mio focus principale di maria 90 minuti li ha dovuti fare si toccava questa mattina accertamenti ripeto non dovrebbe essere niente di che però gli ha rischiato eh gli ha rischiato e non poco secondo me con questo discorso dei cambi di rovinare una partita perfetta perfetta dal punto di vista di quello che doveva essere il nostro copione tranne dal punto di vista della realizzazione dove è mancato qualcosa credo che loro siano contenti del risultato noi un po' meno questa cosa bisogna migliorare senza voto voi c'è scesni perché scesni ieri sera ha avuto lo stesso impatto che ho avuto io in juventus friburgo loro veramente pericolosi soltanto in occasione del gol che hanno fatto che era a mano e quindi è stato giustamente annullato un lampo un lampo nella notte per quanto riguarda loro una disattenzione un rimpallo una palla sporca che passa niente di più sei mezzo a bremer perché non è facile non è assolutamente facile fare una partita in cui parti da regista difensivo e poi vieni spostato in questo caso a destra centrodestra e comunque mantieni il stesso tipo di intensità bremer è sicuramente più bravo a giocare centrale ma è anche un ottimo braccetto di destra quindi molto soddisfatto la prestazione solida di bremer sei per alexandro è un po' il discorso che facevo prima se uno non è al 100% è giusto che rimanga fuori che non la giochi non succede niente proprio non succede niente speriamo che non sia niente di che speriamo di non averlo perso allegretto sicuramente non ci sarà domenica vedremo quando ritornerà perché poi giovedì c'è il ritorno poi c'è l'inter iniziano a essere delle partite importanti e portarci dietro degli infortuni per voler far vedere che credo che sia abbastanza inutile a questo punto della stagione sei mezzo per danilo che mantiene il suo rendimento standard giocatore insostituibile instancabile ieri ha fatto anche due o tre giocate tecniche nello sviluppo della senera dietro degna di nota una con un'arabona con un'apertura poi sulla larga destra perché lui era posizionato centro-sinistra quindi tanta tanta roba danilo tanta tanta roba sei mezzo sei mezzo pure quadrado o inizio a intravedere quadrado inizio a rivedere quadrado un giocatore che inizia a puntare l'uomo più sicuro uno contro uno tira in porta va a giocare va veramente anche tra le linee finalmente finalmente dei lampi di quadrado non pensavo di poter dire questa cosa in questa stagione probabilmente sono gli ultimi gli ultimi lampi di quadrado che andremo a goderci ma sarebbe bello chiudere in crescendo questa avventura con la juve bravo qua sei mezzo sette a locatelli e qualcuno qui non sarà d'accordo e non me ne frega niente ma locatelli in fase di non possesso ha fatto una partita clamorosa tra primo e secondo tempo 45 interventi clamorosi clamorosi dal gran che sono stati belli uno che è stato fischiato come falloso aveva mandato rabbio a segnare il gol dell'1-0 che non è stato annullato perché l'arbitro aveva fischiato prima ma quell'intervento in pressione di locatelli aveva recuperato una palla solo a tre quarti e rabbio era riuscito a capitalizzare con un tiro in porta ma locatelli è piaciuto tantissimo è ovvio che se ce lo immaginiamo come il giocatore che deve far girare la squadra allora non abbiamo capito quello che sta facendo locatelli in questa stagione che sta facendo il mediano sta facendo il mediano e da mediano sta facendo una stagione clamorosa la partita di ieri secondo me di locatelli è di altissimo livello di altissimo livello va in difficoltà quando deve impostare questo è vero e se migliora anche lì locatelli diventa un giocatore di livello molto alto molto alto la partita di ieri a me di locatelli è piaciuta mi è piaciuto meno quella di rabbio è un po indeciso anche in alcune scelte quando aveva il pallone tra i piedi c'è stata un'azione magnifica nel primo tempo in cui rabbio probabilmente poteva capitalizzare meglio con palla dietro avanti velo sponda per il resto sta facendo una buona stagione e vediamo che cosa succederà alla fine dell'anno anche se immagino che non vestirà più la maglia della juventus al pari di quadrado voto 7 a Kostic perché ormai questo giocatore è un treno un treno vero e proprio dopo la bella prestazione con la Roma è arrivato anche l'assist strano eh che Kostic faccia un assist strano eh che Kostic vada a dominare in Europa League è un giocatore meraviglioso Filippo Kostic mi dispiace averlo avuto a disposizione da praticamente dai 30 anni san coitani sarebbe stato bello averlo con qualche anno in meno per goderselo maggiormente su quella fascia lì ma è instancabile pure lui Danilo e Kostic sono eh la spina dorsale di questa squadra dal punto di vista della continuità quindi ennesimo cross di Kostic non fa nemmeno più notizia voto 5 a Miretti schierato eh sul centro sinistra sulla tre quarti sinistra insieme a Di Maria che era sulla tre quarti destra non ha impattato molto bene un bel tiro nel primo tempo era partito anche molto bene poi non è finito nello specchio della porta era un po' che non lo vedevamo eh non credo che sia esattamente il ruolo preferito di Miretti quello di tre quartista maggior ragione in un attacco a tre potrebbe migliorare tanto vai Mire sai che io sono un tuo grandissimo fan però la partita di ieri Miretti non mi ha entusiasmato voto 7 e mezzo invece a Di Maria perché ieri era veramente nella versione di magia tutto campista ma si era percepito dall'inizio quando inizio a vedere che Di Maria inizia a farti delle robe c'è stata una roba nel primo tempo che si abbassa fa passare una palla per quadrato che non ho nemmeno capito come abbia fatto eh pallone attaccato con una calamita con la colla alla suola passava per tutto e poi c'è questo si mette pure a fare gol di testa allora io alzo le mani perché significa che mi capisce a fare tutto un errore conto nella partita di Maria quando al limite dell'area fa fallo sul Friburgo su un giocatore di Friburgo e regala un'occasione al Friburgo su punizione ma era in mezzo a 4 e ha perso un pallone e quindi capita e quindi è umano ecco la notizia è che è umano ma per il resto questo giocatore io mi vergogno ogni tanto a giocare con Di Maria mi sembra di usare i codici su GTA cioè mi sembra di usare i trucchi la domanda che sorge spontanea è so che con il secolo di mano non si va da nessuna parte ma se avessimo avuto Di Maria a disposizione da inizio stagione così perché è palese che ci sia un Di Maria premondiale o Di Maria post mondiale questo è un giocatore clamoroso e mi dà l'impressione di divertirsi mi dà l'impressione di essere contento di giocare queste partite quindi io vi dico sul rinnovo di Di Maria ma abbiamo già fatto un video non mi voglio sbilanciare dicendo rinnova ma nel mio piccolo nel mio cuore nella mia testa inizia a preso uno spiraglio eh di possibilità di vederlo un altro anno vediamo cosa succede 4 e mezzo a Vlaovic voglio essere particolarmente cattivo perché è vero che non arrivano palle giocabili per quel che è il modo di giocare di Vlaovic traduco non arrivano dei veri e propri palloni in profondità in cui Vlaovic deve attaccare sullo scatto Vlaovic molte volte gioca spalla alla porta ed è penalizzato da questo e questo fa parte di quello che è da imputare all'allenatore il modo di giocare non va a valorizzare l'attaccante per il quale è stato fatto un grosso investimento e credo che su questo tutti d'accordo e nulla ci piova però poi da Vlaovic degli errori tecnici così banali non li posso accettare a maggior ragione nelle due partite precedenti dove aveva elogiato proprio questa crescita del ragazzo dicendo che aveva giocato meglio a livello tecnico e anche allegri nel pre partita di Juventus Friburgo aveva sottolineato questa cosa ecco ieri sera Vlaovic ha fatto una prestazione terrificante dal punto di vista tecnico e non è mai riuscito ad aggredere un pallone ne ha avuti due due di testa nel secondo tempo molto difficile secondo me in torsione avvitamento su un cross di Di Maria nel primo tempo dopo mi pare un tiro forse dopo una punizione di quadrado un colpo di testa che sì era complicato ma nemmeno così tanto io sottoporta posso anche davvero chiudere un occhio anche se sei un attaccante ma degli errori tecnici banali no chiesa con il ginocchio fuori uso che stava lì soltanto perché doveva stare lì ha fatto due sponde che erano pulite pulite pulitissime migliori di quelle che fa Vlaovic Dujan io ti do 4 e mezzo perché sono un fan di Vlaovic sono assolutamente un fan di Vlaovic e so che può fare meglio di così e quando vedo Vlaovic fare delle partite di questo tipo mi arrabbio perché è vero che non viene valorizzato è vero che non viene messo al centro dell'attacco però io da Vlaovic dentro la partita pretendo di più perché so che lo può fare non può non saperlo fare glielo ho visto fare so che lo sa fare in questo momento è sconsolato è scoraggiato è demotivato è senza fiducia sfiduciato va bene ci sta però deve ripartire da lui cioè deve venire fuori da lui questa cosa perché sennò si perde per strada dai Dujan dai cazzo 5 e mezzo Bonucci un po' arrugginito secondo me non si ricordava benissimo come come si faceva il mestiere probabilmente quando entra Bonucci poi c'è un modo di difendere differente perché Bremer è un giocatore che difende davanti Bonucci è un giocatore che prende molto spazio difende molto all'indietro si vede la differenza della difesa con Bonucci e senza Bonucci qualcosina si è perso proprio dal punto di vista dell'aggressività ieri parlavano di pulizia tecnica maggiore con Bonucci in campo io gli ho visto fare due tre errori in disimpegno uno su quadrato largo a destra uno un pallone da dietro che doveva uscire per vie centrali che è stato sbagliato insomma com'è non il miglior Bonucci ieri sera 5 e mezzo 6 e mezzo a Fagioli invece perché entra e cambia la partita Niccolò Fagioli entra e cambia la partita perché aggiunge qualità palleggio e alla fine tira pure in porta peccato che sia stato rimpallato in qualche modo perché quel tiro a incrociare entrava entrava dava fil di palo clamorosamente quindi Fagioli mi piace che ci sia questa possibilità di vedere i nostri ragazzi in campo inutile mi piace all'interno di questa stagione un po' così sono i miei punti d'appoggio per riuscire a sorridere anche dentro una stagione brutta senza voto a Federico Chiesa proprio perché è entrato e dopo dieci minuti si è fatto male andrebbe dato 100 per il coraggio di rimanere in campo nonostante il ginocchio che ha fatto un brutto movimento ha fatto un brutto movimento infatti adesso vediamo se è uscito il comunicato della Juve facciamo un ultimo check il live vediamo chiesa non dovrebbe esserci ancora il comunicato c'è soltanto l'uscita dal J Medical peccato io ragazzi ho davvero atteso fino all'ultimo secondo 100 per il coraggio a Federico Chiesa perché rimanere in campo nonostante il ginocchio che non è quell'operato è quell'altro che fa un movimento innaturale tanta tanta roba ma è meno 100 per l'incoscienza perché lui ha tanto da perdere ha tantissimo da perdere doveva semplicemente venire giù e lasciarla a Juve in dieci come aveva fatto Milik Milik non poteva correre sapeva che avrebbe peggiorato la situazione e comunque da un po' che è fermo che è fuori speriamo di recuperarlo almeno con l'Inter se no si andrà dopo la sosta però Fede occhio perché ha sentito il dolorino poi ha fatto quello scatto quella progressione che andava ai 2000 all'ora queste cose non te le puoi permettere Fede cazzo non puoi permetterti la maggior ragione tu che hai passato un periodo un purgatorio l'abbiamo visto in Back on Track davvero 100 per l'amore che mette 100 per il supporto che mette ma attenzione che sia un patrimonio della Juve e del calcio italiano e senza voto Moise Ken che anche qua per quello che ci ha fatto vedere senza voto ma meriterebbe 100 per l'abnegazione con cui è sceso in campo perché lui entra deve fare l'attaccante nel 4-3-3 si rompe il compagno Chiesa deve rimanere davanti perché non può dare niente Ken va a fare il terzino a sinistra davvero spirito di sacrificio un milione dopo quella brutta roba che aveva fatto con la Roma quindi senza voto perché senza voto però mi è piaciuto davvero il modo in cui ha aiutato la squadra perché ha veramente aiutato la squadra e niente stavo guardando se c'era un'altra notizia di chiesa niente non esce nulla quindi al massimo ci aggiorniamo con un commento qui sotto intanto vi carico il video un abbraccio ragazzi dai